Buonasera carissimi amici, lo studio legale Cucciare CAF e patronato augura a tutti i voi un sereno Natale vicino ai vostri cari. Un felice Natale per tutti i nostri clienti e collaboratori. Un saluto a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo meraviglioso 2015. Inoltre in qualità di coordinatore di associazioni a casa porto gratitudine a tutti i volontari che ci hanno dato una mano nel 2015. Grazie di cuore. Buon anno a tutti.